In 90 minuti più recupero il Lecco si gioca all'inizio del suo cammino ai play-off. Il quinto posto vorrebbe dire saltare il primo turno in programma domenica 1 maggio e entrare in gioco mercoledì 4 maggio. Ma servono tre punti domenica fuori casa contro la Pro Sesto e bisogna sperare che Triestina e Pro Vercelli non vincano. La vede così il direttore sportivo Domenico Fracchiolla. Andiamo lì per vincere come nella nostra tradizione. Ci dispiace che le ultime due gare in casa abbiamo colto solamente un punto. Però io credo che su un campionato lungo come è difficile come quello del Gione A della Serie C credo che sia anche fisiologico alle volte fare dei passi falsi. Alla fine i punti si compensano sempre. Credo che a novembre difficilmente avremmo pensato a un Lecco che nell'ultima giornata di campionato si giocava il quinto posto. La Pro Sesto con la vittoria della Virtus Verona sicuramente ora è certa dei play-out. Però comunque anche a loro servono dei punti per essere nella miglior posizione possibile all'interno dei play-out. Sarà un'ultima gara tosta ma vedendo il calendario tutte le partite dell'ultima giornata hanno tutte da dire qualcosa. Questo rende sicuramente merito al Gione A della Serie C che secondo me rimane il più competitivo dei tre. In attesa di definire il futuro della società, al momento non si registrano novità significative su una possibile cessione. Il Lecco è al lavoro per stringere nuove alleanze. I ragazzi della Friuna Vera Blu Celeste hanno affrontato a Riga Monticeppi la nuova Sondrio Calcio, squadra impegnata nel campionato di promozione. Un primo passo verso una collaborazione tra le due società. L'intento nostro è quello di aprirci alle realtà vicine al territorio. Chiaramente Sondrio può rappresentare una collaborazione che sicuramente può portare un valore aggiunto alla Calcio Lecco. Siamo i più vicini e anche perché poi abbiamo avuto modo col settore giovanile di vedere che i ragazzi che provengono da quella zona sono dei ragazzi molto tosti, dei ragazzi molto determinati. Quindi secondo noi può essere un'apertura interessante. Sondrio Calcio